Allora cominciamo piano piano con le prove tecniche per la notte dedicata all'estate del periodo di Giamone, ci torniamo alle famiglie con i bambini piccoli di potersi di raccomodare alla destra del palco, alla vostra sinistra, stiamo ancora nella fase di riscaldamento, questa sera cercheremo di accontentare tutti quanti con la grande musica che ha fatto la storia, questa appena città della Pieve si fa festa, poi ufficializzeremo la serata con l'ingresso delle ballerine. 1. 2. 2. 3. Ragazzi E dai, prendo l'acqua di un'angela, non sai mai che qui ci vada, e il tuo tempo morirà. E dai, guarda che cambierà in grada, e la cosa è più bella, e il tuo cuore basterà. Grazie mille, grazie mille.